una volta che avremo terminato il 96esimo ferro di lavorazione ci ritroviamo sul diritto del lavoro andiamo a far passare tutti i punti sul ferro ausiliario o su un altro ferro quindi andiamo a passare tutti i punti sul ferretto passati tutti i punti andiamo a chiudere la nostra spilla e lasciamo così in sospeso il lavoro e procediamo andando a realizzare un pannello uguale identico adesso andiamo a lavorare le maniche per le maniche andiamo a montare 38 maglie esattamente con lo stesso metodo che avete utilizzato per montare le maglie per il davanti per il dietro montate le vostre 38 maglie terminato il montaggio dei punti procediamo con la lavorazione e lavoreremo per 20 ferri appunto cosse 1 e 1 il punto cosse 1 e 1 si effettua andando a lavorare un diritto e un rovescio ripetuti per tutto il ferro quindi diritto rovescio diritto rovescio sino al termine del ferro una volta che avrete terminato il ferro di andata procedete con il ferro di ritorno andando a lavorare punto su punto quindi diritto dove avete il diritto rovescio dove avete il rovescio diritto dove avete il diritto rovescio dove avete il rovescio e procedete in questo modo in ferri di andata e ritorno per un totale di 20 volte quindi un totale di 20 ferri appunto coste 1 e 1 una volta che avremo terminato con la lavorazione dei nostri 20 ferri appunto coste 1 e 1 per un'altezza di 12 cm procediamo con la lavorazione del resto della manica ovviamente e come vi ho fatto vedere prima nel foglio andiamo a lavorare un totale di 48 ferri con il punto pavone per un totale di 12 moduli completi nella parte centrale poi facciamo iniziamo gli scalfi e procediamo con la lavorazione di altri 12 moduli sino ad arrivare al 96esimo ferro di lavorazione poi mettiamo in sospeso il lavoro il punto pavone lo facciamo nelle 18 maglie centrali quindi noi abbiamo 38 maglie lavoriamo 10 maglie e 10 maglie lateralmente e nelle 18 maglie centrali faremo il nostro punto pavone quindi iniziamo e contemporaneamente alla lavorazione dobbiamo fare anche gli aumenti e gli aumenti li faremo sempre all'inizio alla fine del ferro questa volta li faremo sulla lavorazione a diritto e sempre all'interno di tre maglie lavorate sempre a legaccio quindi tutti i ferri a diritto quindi 123 diritti e adesso facciamo l'aumento lo facciamo andando a prendere il punto il filo che si trova tra punto e punto quindi questo qui prendiamo questo punto lo lavoriamo diritto ritorto quindi invece di entrare nel punto in questo modo entriamo nel punto da dietro e lavoriamo a diritto e questo è il nostro aumento adesso lavoriamo un totale di 11 maglie perché 10 le avevamo prima di iniziare il punto pavone quindi ne lavoreremo 11 perché contiamo l'aumento quindi 4 5 6 7 8 9 10 e 11 e a questo punto mettiamo un marca punti così siamo tranquilli che la lavorazione poi del nostro punto pavone circoscritta tra due marca punti e non ci sbagliamo andiamo più veloci adesso lavoriamo il modulo del punto pavone quindi due maglie insieme a presa diritto per tre volte 2 e 3 un diritto e un gettato per sei volte 1 2 3 4 5 e 6 volte e nuovamente chiudiamo con due maglie prese insieme insieme a diritto per tre volte 2 e 3 ora mettiamo un altro marca punti e andiamo a terminare la lavorazione lavorando tutte le maglie a diritto sino le ultime 3 adesso facciamo nuovamente l'aumento quindi entriamo nello spazio tra maglia e maglia raccogliamo il filo e lavoriamo a diritto ritorto quindi vi ripeto invece di entrare così entrate da dietro così e lavorate il diritto e nuovamente tra i diritti ora voltate gli aumenti per i primi 8 moduli quindi per i primi 32 ferri dopo il bordo li faremo un ferro ogni 4 quindi adesso io ho fatto l'aumento lavoro 3 ferri senza aumentare e andrò ad aumentare nuovamente all'inizio del modulo successivo quindi nel quarto ferro dopo il primo aumento adesso vado a lavorare tutto il ferro a diritto è il secondo ferro quindi procedo la lavorazione a diritto di tutto il ferro sino al termine terminato il ferro volto e procedo con il terzo ferro del punto io mi baso sul sul punto pavone e vado nuovamente a lavorare tutto il ferro a diritto sino al termine terminato il terzo ferro procedo con il quarto che il ferro rovescio e quindi inizierò la lavorazione andando a fare i primi tre punti a diritto e poi tutto il resto dei punti a rovescio sino agli ultimi tre del ferro arrivata agli ultimi tre li lavoro nuovamente a diritto 1 2 e 3 ora volto e ho terminato così il primo modulo del punto pavone ora inizia nuovamente col primo quindi il quinto ferro sarà il primo del nuovo modulo e inizio sempre con tre diritti e a questo punto vado a fare nuovamente l'aumento quindi nuovamente pesco il filo che si trova tra punto e punto lo lavoro a diritto ritorto e vado a lavorare tutte le maglie a diritto sino ad arrivare al punto pavone quindi sino ad arrivare al marca punti arrivo al marca punti e procedo con la lavorazione del modulo regolarmente quindi nuovamente tre volte due maglie prese insieme a diritto un diritto aggettato per sei volte e chiudo con due maglie prese insieme a diritto per tre volte termina lavorazione del ferro andando a lavorare tutte le maglie a diritto sino alle ultime tre faccio l'aumento e chiudo con le tre maglie a diritto e procedo in questo modo quindi andando a lavorare il punto centralmente facendo gli aumenti un ferro ogni quattro quindi all'inizio di ogni modulo facciamo il nostro aumento ai lati e poi lavoriamo i tre ferri senza più aumentare una volta arrivati all'ottavo modulo procediamo con lavorarne altri quattro nei quali però andremo ad aumentare in tutti i ferri quindi lavoriamo sino al trentaduesimo ferro facendo un aumento ai lati una volta ogni quattro ferri dal trentatresimo ferro sino al quarantottesimo lavoriamo un aumento ogni ferro a diritto quindi un ferro sì e un ferro no facciamo un totale di 16 aumenti ai lati una volta che avremo terminato con gli aumenti procediamo direttamente con le diminuzioni andiamo quindi a chiudere le prime tre maglie del ferro di andata facendo la chiusura da cavallate così come abbiamo fatto prima chiudiamo tre punti poi lavoriamo tre punti a diritto che lavoreremo sempre a diritto sino al fine del ferro sia nei ferri di andata che nei ferri di ritorno e poi proseguiamo il ferro a diritto sino ad arrivare al marca punti lavoriamo il punto pavone nella parte centrale e lavoriamo tutte le maglie a diritto sino alla fine del ferro una volta terminato il ferro voltiamo e facciamo il secondo taglio sul rovescio del lavoro quindi lavoriamo la prima accavalliamo una due e tre volte e procediamo andando a lavorare tutto il resto del ferro a diritto compresa la parte centrale terminato il ferro a diritto quindi il secondo ferro di ripetizione del punto procediamo con la prima diminuzione che sarà fatta così come nel davanti e nel dietro all'interno di tre maglie che lavoreremo sempre a diritto quindi sempre a legaccio per la diminuzione a destra passiamo la prima maglia lavoriamo la seconda e accavalliamo poi lavoriamo tutte le maglie a diritto anche in questo caso sino al termine del ferro tranne le ultime cinque maglie arrivati alle ultime cinque maglie del ferro effettuiamo la diminuzione a sinistra lavorando due maglie insieme a diritto e poi chiudiamo il ferro con tre diritti ora voltiamo facciamo il quarto ferro della ripetizione del modulo del punto pavone lavoriamo i primi tre diritti così come abbiamo detto lavoreremo sempre a diritto le prime tre maglie poi a rovescio tutte le maglie sino al fine del ferro e procediamo andando a lavorare l'aumento sul diritto del lavoro e sul rovescio lavoriamo le maglie come si presentano prime e ultime tre maglie a maglia legaccio e lavoriamo in questo modo per un totale di 12 moduli quindi sino al novantaseiesimo ferro come vi ho fatto vedere prima dal 49esimo ferro nel quale facciamo il primo taglio cinquantesimo facciamo secondo poi procediamo andando a diminuire un ferro si è un ferro no sino al novantaseiesimo ferro di lavorazione il tutto corrisponde a 12 moduli quindi in totale faremo dopo il bordo 24 moduli una volta che avremo terminato di lavorare la seconda manica procediamo con andare ad assemblare il nostro progetto tagliamo un pezzettino di filo lasciamo i punti sul ferro alla manica andiamo ad attaccare uno dei due pezzi del davanti o del dietro quindi sganciamo la nostra spilla o se avete utilizzato un altro ferro li passate dall'altro ferro e passate tutti i punti sul ferro di sinistra una volta che avrete terminato di passare i punti del davanti o del dietro procedete con l'altra manica nello stesso modo sganciate e poi andate a passare i punti della manica terminati i punti della manica prendete il davanti o dietro tanto sono uguali e andate a passare anche i punti del secondo pannello a questo punto andiamo a realizzare il collo andremo a lavorare il collo così come abbiamo fatto il bordino delle maniche quindi appunto coste 1 e 1 quindi prendiamo il nostro filo nuovo per adesso lasciamo perdere questi fili poi li sistemeremo una volta che andiamo a cucire ad assemblare tutto il nostro progetto facciamo un cappettino con il nostro filo entriamo nel primo punto agganciamo il cappettino tiriamo e facciamo passare il punto resta andiamo a lavorare un rovescio il primo abbiamo passato a diritto ora lavoriamo un rovescio nuovamente un diritto un rovescio un diritto un rovescio sino ad arrivare al penultimo punto l'ultimo punto lo lasciamo sul ferro io ho terminato la lavorazione con un diritto adesso faccio il rovescio andando a prendere due maglie insieme l'ultima di questo pannello è la prima del pannello successivo quindi passo nell'ultima entro nella prima del pannello successivo lavoro rovescio e poi procedo un diritto un rovescio un diritto e un rovescio sino ad arrivare alla fine quest'altro pannello lasciando sempre l'ultima maglia e poi vado a riprendere a seconda se devo fare un diritto rovescio due insieme rovescio o due insieme a diritto lavoro tutto l'altro pannello sino ad arrivare all'ultima maglia l'ultima maglia da prenderò insieme alla prima dell'ultimo pannellino della manica e procedo in questo modo sino al termine del ferro una volta che avremo terminato di lavorare il primo ferro andiamo a lavorare il secondo che sarà esattamente uguale al primo lavorato punto su punto quindi dove abbiamo il diritto lavoriamo il diritto dove abbiamo il rovescio lavoriamo rovescio io ho lavorato un collo di 18 centimetri se lo volete più corto ovviamente farete meno ferri se volete fare il giro collo lavorate due ferri a punto costa e poi fate quattro o sei ferri a punto tubolare e poi chiudete con l'ago comunque vi metterò tra le schede i tutorial dove vi spiegano come chiudere a punto tubolare se non lo sapete fare adesso siccome io voglio una chiusura molto 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 elastica molto morbida non chiudo a punto tubolare perché altrimenti stringe molto e siccome io voglio una chiusura molto larga andrò a chiudere con la chiusura ad accavallate lavorando punto su punto quindi dove ho il diritto lavoro il diritto lavoro rovescio e poi a cavallo il diritto sul rovescio lavoro il diritto e a cavallo la precedente lavoro rovescio e a cavallo la precedente tenendo il filo molto molto morbido quindi non tirate troppo il filo non tendetelo troppo lavoro il punto come mi si presenta sotto e poi a cavallo il precedente ora lavoro lavoro rovescio e a cavallo il precedente diritto e a cavallo rovescio e a cavallo e procedo in questo modo sino a terminare tutti i punti una volta che avremo terminato tiriamo sull'ultimo punto e tagliamo via un pezzetto di filo abbastanza lungo che ci permetta di cucire la parte laterale del collo poi entriamo all'interno dell'asolo dell'ultimo punto prendiamo il filo da sotto e chiudiamo il e stringiamo per chiudere adesso andiamo a cucire partiamo dal collo e cuciremo tutto nello stesso identico modo quindi vi faccio vedere il collo poi proseguite con il resto dei componenti prendiamo una godalana uniamo il collo dalla parte ovviamente del rovescio del lavoro entriamo nel punto corrispondente a quello di chiusura di fronte ovviamente e poi abbiamo il filo sotto entriamo nel punto successivo nel punto successivo di fronte e poi ci richiudiamo nel punto di partenza adesso abbiamo il filo sopra entriamo nel punto sotto nel punto sopra e ci richiudiamo nel punto di partenza ora siamo sotto col filo entriamo nel punto sopra con l'asolina superiore del punto nell'asolina superiore del punto quindi in questo caso inferiore perché il punto davanti a noi e poi ci richiudiamo sopra ora siamo sopra entriamo sotto nel punto corrispondente sopra e poi ci richiudiamo sotto ora siamo sotto col filo passiamo all'asolina superiore del punto e all'asolina del punto inferiore e poi ci chiudiamo nuovamente quindi procediamo in questo modo chiudendo prima tutto il collo e poi proseguiamo andando ad unire scalfo per scalfo quindi andremo ad unire lo scalfo della manica con lo scalfo del dietro in questo modo uniamo i due tagli così e poi cuciamo tutta questa parte sempre così come vi ho fatto vedere adesso e poi uniamo scalfo per scalfo prendiamo lo scalfo della manica dall'altra parte e ci uniamo con lo scalfo del dietro così nuovamente cuciamo tutta questa parte procediamo con la parte del dietro e ci uniamo alla seconda manica per la seconda manica andremo a completare l'unione con il davanti dopo di che andremo a cucire il sotto manica e i fianchi per aiutarvi quando andate a cucire gli scalfi del raglan andate ad unire gli scalfi ovviamente poi mettete un marca punti nel primo punto dei tagli da una parte e dall'altra come detto una volta che avremo terminato di unire tutti i raglan procederemo con chiudere il sotto manica e i fianchi sempre nello stesso modo e una volta che avrete terminato il vostro progetto l'effetto sarà questo è veramente molto molto bello però avete visto a parte la particolarità della chiusura del punto traforato è molto semplice è un progetto veramente che potete fare tutti con un pochino di pazienza per le amiche che hanno appena iniziato è un maglioncino perfetto per questa stagione ma se lo realizzate con un filato più leggero va benissimo anche per la primavera a questo punto non vi rimane che prendere in mano i ferri il filato e provare a realizzarlo il nostro tutorial l'avete capito è terminato io come al solito vi ringrazio per avermi seguito vi mando un abbraccio gigantesco un bacione e vi aspetto al prossimo tutorial ciao amorosi